Sì, guarda, questa è una via famosissima a Sian, che si chiama Kuemingye, che è una via molto turistica, però per chi viene a Sian non può mancare. Come mai? Perché adesso lo scoprirai. Ho dovuto accettare in Sian come via Tara, e quindi si sono. Riare in Sian non alla per la primavera, ma anche la primavera di Sian si è che non ci sono? No, quando si sono già venite, ci sono tantissimo, non ci sono come cose, ci sono qualcosa si che mangiano, Il paico è stato nel cuore. Do vuoi lo preparo? No, no, non ciò si tu fai? Sì, perché non lo so, perché non lo so, perché non lo so. Non lo so, perché non lo so, perché non lo so. Non so, perché non lo so. È un ol' bambino, non lo so. Luca, mi spiega come mai tanto persone portano il capello. È così? Perché in chiunque ha 56 città, questo è una città di chiunque. Mi chiamo una città della rivista, una città di chiunque ha fatto qui. Una città di chiunque ha fatto un po' di cui si è accaduto. E' un po' di cui fai la casa, perché non lo so, è primi. C'è un po' di cui c'è il giovane, e poi天 dà, che ci sia una città di chiunque. C'è una città di città, e la città di chiunque ha fatto una città di chiunque, perché non sono freddo, perché non lo so. E' un po' di cui stanno da vedere un po' di cui, perché non lo so, perché non lo soще di aiuturi sono. Non lo so. Me provino a prendere a handmade scottata di lui e non lo so. paghi direttamente con WeChat o Alipay e non c'è nessuno che controlla è aperta è aperta. In Italia sarebbe svuotata senza un pagamento non è che si apre dopo che hai pagato capito si apre qua tu prendi e poi paghi ma non c'è la telecamera no invece il mio ho scese Antonica no vediamo comunque anche da questi piccoli dettagli che la la gente qui è molto onesta. Sì. 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 Papi guarda questo quanto questa è una fila per il panino con la carne. Come il via Paolo Sappi a Milano che c'è una coda lunghissima forse il sapore sarà uguale. Sì. 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 non sono freddo, sono freddo no, tu preferisci il piacere oppure il piacere oppure il piacere? non ho niente di piacere oppure il piacere non vi faccio il piacere oppure il piacere oppure il piacere non ho capito, non mi piace questo non è lo stesso non è l'occhio questo è l'occhio Buonissimo Intelligente Buonissimo Siamo che non s'avate pesciano, devono molti sordi aуетi... Certo, certo? Si sordi pesciano a seguire. Sono di ricordo sordi delito quando si è buonannedo. Vediamo come la ricetta delineo? Questa è una ricetta delineo, non è scramo la ricetta. È belacchio e non tocco, hanno un'esatto, ma è una ricetta nell'esatto di scramo. Per mezzo asciolato. Ciao. Ciao 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 Con杭州 non è una cosa C'è un pollo In mezzo in un pollo Poi ci sono in un pollo C'è un pollo L'impasto di un pollo C'è una pollo C'è il nostro canale? Non. C'è il nostro canale che non lo faccio. Non si può avere consigli di uscire. Il nostro canale è tutto il nostro canale. Ah! Il nostro canale è stato un pollo, è il nostro canale. Questo è il nostro canale. Lo mio? Questo è il nostro canale. C'è qualcosa inizia di uscire il canale. C'è qualcosa di uscire. Certo, non è così. Ghiè. Ma la prima volta, siamo in Wuhan e abbiamo uscire il canale. Certo. Ma come sempre in Wuhan, è sempre usato il canale di uscire. Senti, mi rubano gli occhi, in tanto tempo, quando io c'ho, insomma, ragazzi, il ceboletto. Sì, c'è, 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 c'è. Ma ti hai notato che qui a Sian, con tantissimi piatti, portano l'aglio. Vedi che mangiano, l'aglio? Ma è cotto. Sì. Sì. Oh, no. Non ci facciamo? Com'è? Oggi devo dare, poi facciamo pure, adesso ci facciamo anche. Devo dire che il pane spezzettato così, nel brodino, edo, questo tipo di pane veramente buono. Sian, ho visto dopo che sia il夯ico, non dico bene, non si senti così, non c'è poco. Esserena, è bella, aspett będziemy. Se tu e la tua donna lo so, no? Chiarate di andare in Italia dopo, spessere di un'altra. Poi non pensi che in Italia dopo, ieri siano a te senti a un'altra. Ma non si senti un pollo, c'è un pollo stesso appunto. Non si senti un pollo, mi ha fatto questa cosa, non c'è un pollo. Mi sembra che ho visto il nostro padre, il mio sono spettato, è un pollo stesso appello. All'inizio, inizio, mi sono molto preoccupato. Perché, dopo la prima volta, in Irani, il rio non si tratta di insieme. Ma non ho pensato che, dopo l'anno, non si tratta di fare tutto. Da quando sono in Cina, mi sono riproposto di mangiare sempre cibo cinese per provare tanti piatti. Poi, ce ne sarà qualcuno che non piace, come c'è stato. Pazienza. Ma è come in una cucina italiana. Ci sono tanti piatti che piacciono e altri piatti che non piacciono. È così dappertutto. Se non li provi, piatti come fai a giudicarli a sapere se sono buoni o no, se ti piacciono o no. D'accordo? Vero. Allora, ho messo con l'essenza di te. Dopo questa bella cenetta, andiamo a fare due passi in questa zona caratteristica. Per digerire. Sì. Grazie, Leo. Sono le zampe della pecora. Meno male che non me le hai ordinate. Sì. 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 Se non possiamo andare al ristorante, ci fermavamo in tutte queste banchetti che ci offrivano tutti qualcosa e non spendevamo niente. ho messo con una città. Sì. Sao dire che città? Sì. Sì. Città. Sì. Non mi sentiate un bel passo. Ci sono gli consigli importanti dellaânia. Certo, noi simili così. Sì, siamo consigli importanti. Puoi, puoi! Sì! Puoi, puoi! Prende tutti i nostri giunti! È una mia buona, ciao! Basta la tua autore. Mi piace! Allora, facciame! La mia vita, vediamo loro! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. bene ciao 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 ciao